Ciao a tutti, sono Simone e questo è Experimenting Garage. Oggi un video un po' particolare, un video leggermente fuori tema rispetto a quello che pubblico di solito sul canale, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. In questi mesi ho cominciato a suonare la chitarra, non sono assolutamente un professionista, ho imparato giusto alcuni accordi principali, ma mi è venuta l'idea di fare una lezione di chitarra per principianti da un principiante e ora vi spiego perché secondo me è un'idea geniale. Ovviamente all'inizio, come tutti, sono andato su YouTube, ho cercato video del tipo lezioni di chitarra per principianti o canzoni facili o accordi semplificati, ma il problema è che anche in questi video semplici chi suona è sempre un chitarrista o comunque un maestro di musica. E quindi quando dicono che qualcosa è facile, in realtà la maggior parte delle volte non lo è e se lo è, loro lo suonano con una facilità che per un principiante è demoralizzante. Ed è qui che entro in scena io, perché in questo video vi insegnerò quel poco che so fare, senza darvi false illusioni, perché a suonare sono comunque scarsissimo, in quella che secondo me dovrebbe essere la prima lezione per un principiante assoluto, ovvero il Giro Covid. Innanzitutto un po' di storia. Perché si chiama il Giro Covid? Allora, io ho cominciato a suonare la chitarra insieme a mio fratello e cercando dei giri di accordi facili su internet ci siamo imbattuti in questo giro che contiene l'accordo Do Ad 9, che in notazione in lettere diventa C Ad 9. quindi era scritto CAD, mio fratello legge COD, io capisco Covid perché in questi mesi non si parla d'altro e quindi è diventato il Giro Covid. La cosa più bella del Giro Covid è che anulare i mignolo vanno nella prima e nella seconda corda, terzo tasto e vanno lasciate lì per sempre, non vanno mai cavate, quindi voi suonate, le lasciate sempre lì e alla fine vi verranno due bei solchi nei polpastrelli. A parte i solchi però, questa è una grandissima comodità perché rimangono solo l'indice e il medio da muovere e inoltre si muovono sempre tra il secondo e il terzo tasto, quindi sempre molto vicini, comodi, facilissimi. Allora, gli accordi sono Do, che in realtà è un Do Ad 9, Sol, che è Sol, Re, che in realtà è un Re slash Fa diesis, e Mi, che è un Mi minore settima. E la cosa interessante è che non c'è solo quest'ordine degli accordi, ci sono varie combinazioni ed inoltre, suonandoli anche col capo tasto, il Giro si adatta ad un ampissimo numero di canzoni. Ad esempio, capo tasto nel quarto tasto, vediamo se la riconoscete. Altra combo con il capo tasto, allora, primo tasto comunque queste sono solo due del miliardo di canzoni che è possibile suonare col Giro Covid nelle sue varie combinazioni a me personalmente piace la combo col minore finale quindi questo è il Giro Covid, secondo me è il più facile che ci sia, è anche super versatile in varie combinazioni secondo me è il primo giro che si dovrebbe insegnare ad un principiante che si avvicina alla chitarra prima ancora del Giro di Do che personalmente trovo anche un po' strano c'è comunque da tener conto che sebbene siano accordi facili non sono accordi puri a parte il Sol infatti bloccando la prima e la seconda corda noi facciamo delle variazioni del Do, del Re e del Mi minore non c'è niente di sbagliato in questo, semplicemente il Giro prende un colore diverso rispetto al Giro di accordi puri che però è più difficile da suonare questa è la differenza insomma siamo arrivati in fondo anche a questo video per me è stata una sudata pazzesca perché ogni volta che vedete che ho suonato una cosa in realtà l'ho fatta almeno quelle 15-20 volte e quindi vado a farmi una mega doccia e vi do appuntamento al prossimo episodio di Esperimenti in Garage ciao ciao ciao